La ricorsa va in signe, non sbaglia, Lorenzo in signe, Napoli 4, salernità da 1. La ricorsa va in signe, non sbaglia, Lorenzo in signe, Napoli 4. La ricorsa va in signe, non sbaglia, Lorenzo in signe, Napoli 4. La ricorsa va in signe, non sbaglia, Lorenzo in signe, Napoli 4. La ricorsa va in signe, non sbaglia, Lorenzo in signe, La ricorsa va in signe, non sbaglia, Lorenzo in signe, Lorenzo in signe, non sbaglia, Lorenzo in signe, Lorenzo in signe, Colonialità da 1. La ricorsa va in signe, добri 2. La ricorsa va in signe, lei, Lorenzo in signe, Lorenzo in signe, nello sbaglia, Lorenzo in signe, Diciamo, se avete visto un video veramente molto breve, da 4-5 secondi all'inizio del video, avete visto quella persona. Questa persona è il mio nonno paterno che è venuto a mangiare ieri qui, è stato 3-4 ore, qualche ora, e a casa, dopo che è morta mia nonna, c'è sua moglie, il 18 dicembre scorso, e quindi è stata la prima volta che è venuto a mangiare qui, non c'era mia nonna, quindi da solo, anche se da solo, c'è venuto altre volte a casa, ma parliamo di molti anni fa, ma giusto per portare delle cose, diciamo così, questo è quello che ricordo io, e sì, tra l'altro poi è uscito anche l'uno nel suo today's number, e quindi io l'ho riferito a questo fatto qui come la prima volta che lui è venuto qui a mangiare, sta proprio con noi qualche ora da solo, veramente da solo, lui ha 93 anni, insomma, cioè quasi 93, voglio dire, ad agosto 93, e mia nonna se n'è andata invece paterna sempre, sua moglie, diciamo, a 88 anni, e poi tra l'altro quando morì le dedica anche una canzone, il consiglio, che si chiama Il Pinguino Innamorato, è una canzone degli anni 40, ha cantato il Trio Lescano, che ha anche interpretato, l'ho dedicata a lei qualche, appunto, poco dopo che è morto, perché è una canzone che cantava a miei e miei fratelli quando eravamo piccoli, la recitava anche con, sì, insomma, diciamo così, e quindi in suonore l'ha interpretata, l'ha imparata anche in poco tempo, in due o tre giorni, e se dovessi fare un paragone con Twin Peaks, diciamo così, io la paragono alla, per me questa canzone, questo momento che, quando me lo ricordo, questo momento è nostalgico, che mi ricordo che lei che cantava questa canzone, a miei e miei fratelli, la paragono ad O'Krug Dance, cioè alla scena praticamente di, si senta per la prima volta O'Krug Dance, che è la scena di Luise D'Ambroski, in cui sono presenti l'ottavo episodio, la seconda stagione, ovviamente Ben Urn e Jerry Urn, David Patrick Kelly e Richard Bamer in carcere, in cui appunto Jerry ovviamente ricorda l'episodio insieme a Ben, ma ancora ci dà caso questa cosa, perché ieri è stato il compleanno appunto dell'attore di Jerry, ovviamente di David Patrick Kelly, ma su questo rimando ai video di ieri, perché ci ho detto tutto lì, è stato il pensiero di ieri, il compleanno appunto di David Patrick Kelly, e ho dedicato anche qualche video, poi, beh qui ripeto, solo che l'anno scorso di dedicare appunto la mia versione di O'Krug Dance, che trovate poi nel video di ieri sotto forma di preview. Poi finalmente stasera, diciamo comunque tra qualche ora credo dovrebbe essere pronta, dovrebbe essere pronta le mie versioni di AMD Ranged, che ricordo l'ho reinterpretata, perché l'anno scorso l'ho interpretata sullo strumentale, con il mio strumento preferito, uno dei miei strumenti preferiti, questa mitica tastiera Yamaha di GX640, IPG, GX625, su uno che si chiama CP80-008, in forma duale, però appunto l'ho reinterpretata la canzone per lei, con la base musicale e anche cantata, insomma, spero che effettivamente le prossime ore riesco a caricare il video, finalmente ho inserito, poi vabbè chi mi ha seguito lo sa, un audio metà, diciamo, la metà di una delle interpretazioni sotto forma di audio nello scorso episodio sui Zeffra di Once Again, e poi ricordo solo che la prima sorpresa che le ho fatte è stata il fatto di aver bevuto il caffè, o caffè come diciamo qui, napoletano per lei, ma comunque metto i vari link se vi siete persi tutte queste sorprese o regali per Mr. Lynch, insomma, e quindi penso questo, al momento mi viene altro, penso, sono questi tutti i pensieri, li scrivo in descrizione e il resto se mi inizia in mente.